In questa parte abbiamo sei schiacciatori, zona 6 è libera, ricezione soltanto zona 1 e zona 5, ok? E si attacca con il muro 1, che avrà la mascherina quando facciamo il muro, zona 1 e zona 5. La murata che cade in 6 è punto, quindi la si gioca. L'attacco non vale in zona 6 e quindi è punto degli altri, ok? Di qui invece abbiamo alzatore, libero e centrale, si batte solo in zona 6, così il libero riceve in zona 6, il centrale può attaccare la palla che vuole, dalla fast alla 2, alla 1, alla 7. Nel contrattacco, alzatore difende in 1, libero difende in 5, come si tenessi qua, e centrale a murro. Il libero può schiacciare da posto 4, se non riuscite a far schiacciare il centrale. L'alzatore si difende, può schiacciare da posto 2. E' chiaro le regole? Alla prima volta! Alla prima volta! Alla prima volta! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, infatti io ho detto prima. Va bene. Grazie a tutti.